Ciao donne che emigrano all'estero, io sono Margherita e vi parlo da Derry in transizione, in realtà siamo in viaggio verso Dublino e stiamo andando a vedere il concerto della nostra artista italiana preferita, l'abbiamo vista a Londra circa due anni fa, poco più di due anni fa ed è stata un'esperienza eccezionale, abbiamo avuto anche la fortuna di incontrarla per fare due chiacchiere subito dopo il concerto ed è stato come parlare con un'amica bentennale diciamo, quindi un'esperienza assolutamente indimenticabile. Speriamo che oggi sia rocchettara e favolosa come lo è stata a Londra, ma lo scopriremo più tardi. Abbiamo appena iniziato il nostro viaggio, quindi sarà un viaggio lungo, purtroppo è piovoso, tipico clima Irish, irlandese e quindi ci risentiamo dall'Academy di Dublino dove scoprirete di chi stiamo parlando. Bene, eccoci arrivati in quel di Dublino, adesso ci dirigiamo all'Academy e finalmente troveremo la nostra artista italiana preferita, seguitemi, ciao da Dublino. In attesa che la nostra artista italiana preferita faccia la sua comparsa, noi ci beviamo una birra e soprattutto vi faccio vedere il palco. Come vedete non è proprio il Pro Park, che sarebbe il San Siro d'Irlanda, però sono sicura che sarà molto molto emozionante a dopo. Come vedete non è proprio il Pro Park, che sarebbe il San Siro d'Irlanda, perché sarebbe il San Siro d'Irlanda, perché sarebbe il San Siro d'Irlanda, perché sarebbe il San Siro d'Irlanda. La verde è riconosciuta. Eccoci di ritorno dal concerto di Elisa, l'avete capito, lei è la mia artista italiana preferita in assoluto. Il concerto è stato meraviglioso, non ho parole, ha replicato le sensazioni che mi ha fatto provare a Londra e quindi sono felicissima, adesso ci aspettano altre tre ore e mezzo di macchina per tornare a casa. Sono quasi mezzanotte praticamente, abbiamo aspettato Elisa l'uscita, ma non siamo stati fortunati, perché è salita direttamente nel pulmino che l'ha portata via. L'aspettano le date di Londra, sarà rock, come è stata a Dublino. Un abbraccio e grazie per averci seguito in questa avventura musicale. Un saluto a tutte le persone che ci seguono dal sito e dalla pagina Facebook delle donne che emigrano all'estero. Ciao, buonanotte!